Musica Un Natale speciale a Calimera, ricco di eventi ma unito da un unico filo conduttore. L'assessorato alle attività produttive e l'amministrazione comunale hanno infatti voluto anche quest'anno promuovere un'iniziativa denominata Io compra Calimera sotto le stelle, con la collaborazione di ALI, Associazione Libere Imprese, ACEA, Associazione Calimerese Sercenti Artigiani e Colaproloco. L'intento è stato quello di promuovere e incentivare il commercio locale, affinché i concittadini ma anche gli abitanti dei paesi limitrofi si recassero a Calimera per effettuare gli acquisti. A tale scopo si è pensato anche di abbellire le singole vetrine delle attività commerciali con delle stelle natalizie, illuminate non solo dalle luci ma anche dalla creatività e dalla passione di ciascuno. Un vero Natale stellato quindi, che attraverso la collaborazione della Proloco ha visto battere il cuore di Calimera con dei lampioni a forma di stella. Il tutto ha avuto inizio con l'accensione dell'albero e delle luminarie lo scorso 8 dicembre, per poi proseguire in un lungo percorso fatto di passione e amore per il territorio. Anche quest'anno abbiamo pensato a tante bellissime novità come ad esempio questi bei lampioni che addobbano le nostre strade insieme alle luminarie e anche i lampioni pensati dalle attività produttive. Così come si può comprendere dall'evento andrà di scena la sera del 29 dicembre in Piazza del Sole. Una manifestazione voluta dall'amministrazione, dalle associazioni ALI e ACEA e che ha visto la collaborazione dell'agenzia di Adriano Dedesco al tema. Un appuntamento doppio, abbiamo il festival delle competenze e presentiamo poi questa app, Agor App, che farà il rete fra le nostre attività commerciali e locali. Abbiamo tanta musica, tanta gente, un po' di festa, ancora festa. L'associazione ALI, l'associazione delle libere imprese e l'associazione ACEA hanno dato vita assieme all'amministrazione comunale a questo spettacolo che ci accingiamo a fare. Come azienda abbiamo subito sposato il progetto e abbiamo portato a termine l'iniziativa con tanto orgoglio e tanto piacere. Un evento all'insegna della musica, ma soprattutto per esaltare l'eccellenza del territorio e per presentare un nuovo progetto. È stata infatti l'associazione ACEA a presentare la nuova applicazione che vedrà la luce nei prossimi mesi, ossia Agor App, che sarà un valido aiuto per il commercio locale. La nostra è una web app, un'app, il nome è Agor App Calimera, presa apposta da Agorà, che ricorda il centro commerciale greco. App appunto perché è un'applicazione Calimera, perché il fulcro sono le attività produttive di Calimera, le protagoniste dell'app sono le attività produttive di Calimera. In quest'app ci saranno appunto tutte le attività che vogliono partecipare, dove ci saranno delle informazioni per ogni attività, una geolocalizzazione, delle foto ed eventualmente dei contenuti che vuole aggiungere l'attività che ritiene più opportuna. E poi musica con l'orchestra Terra del Sole, diretta dal maestro Enrico Tricarico, e poi Tommaso Zuccaro, Antonio Ancora, Vincenzo Tommasi e Mattia Mazzotta. E ancora, il 7 gennaio, è stata la volta della prima edizione del Festival delle Competenze, voluta sia dall'amministrazione quanto d'Ali per dar lustro alle imprese operanti sul territorio, ma dando anche un riconoscimento a tutte quelle attività commerciali che hanno compiuto almeno 40 anni di storia. Diciamo che la nostra piazza ha sempre il suo effetto, un effetto particolare ed emozionante, soprattutto per chi la vive ogni giorno, e quindi vederla così attrattiva da tantissime persone provenienti da tutta la provincia è veramente qualcosa di molto bello. Qualità di Associazione Libera Impresa abbiamo pensato di stimolare proprio il tessuto connettivo delle imprese locali, e abbiamo ideato questo Festival delle Competenze. Gli scopi del Festival delle Competenze sono molteplici, sarebbe riduttivo riuscire a estrinsecarli tutti nella brevità di queste interviste, però sostanzialmente lo scopo principale è quello di rafforzare le sinergie tra le attività a partita IVA e anche stimolare, andare anche oltre il confine salentino ed estenderlo un po' a livello anche regionale. È stata inoltre una serata anche colorata da risate e divertimento con i malfattori, da emozioni e musica con l'orchestra acuti diretta da maestro Alex Zuccare con la presenza del maestro Tommaso Zuccaro, e poi con la straordinaria voce di Daniele Nello. Al termine dell'evento è giunta invece la tanto attesa premiazione del Festival delle Competenze. Per la sezione Startup, riconoscimento assegnato ad una giovane azienda che in pochi anni è riuscita a distinguersi a Calimera, ha vinto Azzurra Bistrò, mentre per la sezione Notorietà Nazionale e Internazionale è riuscita a primeggiare Naturalia Cooperativa, gestore del Museo di Storia Civica e Naturale di Calimera. A conclusione degli eventi natalizi, con questo Festival delle Competenze, volevamo dare lustro alle attività che si sono distinte in questi anni, un po' perché hanno resistito alle varie periodi di difficoltà, e quindi sono qui sul territorio da più di 50 anni. E poi ancora alle Startup, ai giovani, che si sono distinti in alcune attività in questi anni. E non finiamo qui, perché poi ci saranno delle attività che si sono distinte anche all'estero. Quindi ecco, volevamo dare con questo Festival un importante riconoscimento a queste attività che sono sul territorio e che hanno reso Calimera quella che è oggi. Grazie a tutti.